E allora iniziamo proprio parlando degli interventi dei Vigili del Fuoco che questa notte per i festeggiamenti di Capodanno sono stati 229. C'è però un morto, un ragazzo di appena 13 anni, sebbene questi interventi siano in età diminuzione rispetto allo scorso anno. Allora ne parliamo in studio con il responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco, Luca Cari. Buongiorno, bentornata a ReNews24, anche a te l'augurio di buon anno. Allora partiamo subito dai dati che abbiamo citato, perché dicevamo certo c'è stato comunque un morto ad asti, un ragazzino di 13 anni, un ferito grave a Milano, ma c'è da dire che sono numeri bassi rispetto alle notti di San Silvestro degli scorsi anni. Allora come è andata queste ultime ore? Come sono andate? Sì, sicuramente, a parte la gravità che avete segnalato, dal punto di vista quantitativo sicuramente c'è stato un calo notevole. Del resto quello che ci aspettavamo è per le restrizioni dovute all'epidemia del coronavirus. Sono stati 229 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta Italia questa notte a fronte dei 686 dello scorso anno, quindi una notte più tranquilla sicuramente per le nostre squadre. Ecco, un aspetto positivo in questo clima, certamente è anomalo per il Capodanno 2021, ma che tipo di interventi sono stati anche considerando che la gente è stata costretta per lo più a stare in casa e non in strada? Ma sicuramente interventi più lievi dal punto di vista nostro, non abbiamo avuto interventi, quelli ovviamente legati ai riconducibili festeggiamenti, non interventi particolarmente difficili, incendi di cassonetti dovuti all'esplosione dei petardi, tende sui balconi, ma non, ripeto, non situazioni particolarmente difficili. Un altro dato sicuramente è quello della riduzione degli incidenti stradali, ovviamente non c'erano autovetture in circolazione la notte, un dato peraltro che corrisponde anche a quello che abbiamo già registrato nel corso del 2020, con un calo notevole degli incidenti stradali, abbiamo fatto 10.000 interventi in meno in tutto l'anno rispetto all'anno precedente. Diamo anche uno sguardo all'anno che si è appena chiuso, Luca, perché sono stati oltre 700.000 gli interventi del Corpo dei Vigili del Fuoco nel 2020, anche in questo caso si tratta di un dato in calo rispetto al 2019, però probabilmente interventi diversi, perché anche per voi è stato un anno di impegno sul fronte dell'emergenza sanitaria, soprattutto in alcuni territori del Paese. Sì, assolutamente, la chiave di lettura è giusta, abbiamo un leggero decremento degli interventi, 700.000 più o meno contro i 770.000 del 2019, che fanno però sempre una media di 2.000 interventi al giorno sul territorio nazionale, che sono sempre un impegno importante per tutti i Vigili del Fuoco, e anche in questo caso la diminuzione è da attribuire sicuramente alla riduzione della mobilità delle persone, alla riduzione delle attività produttive. Ovviamente abbiamo un grosso impegno da parte delle nostre squadre, invece per quanto riguarda il fronte dell'epidemia, abbiamo ad oggi effettuato circa 10.000 interventi. Che tipo di interventi sono sul fronte dell'epidemia? Soprattutto sono interventi di igienizzazione dei locali, delle aree comuni, trasporti di materiali urgenti, interventi ovviamente di protezione civile, questo è un momento di grande impegno sicuramente per il corpo, approfitto anzi proprio per portare il ringraziamento e il saluto, gli auguri a tutti i Vigili del Fuoco Italia da parte del nostro Capodipartimento, del prefetto Laura Lega e del nostro Capo del Corpo, l'ingegner Fabio Dattilo, proprio per ringraziare i Vigili del Fuoco per questo grande impegno che stanno mettendo e che metteranno ancora per aiutare a risolvere questa situazione che speriamo tutti che il 2021 sia in questo senso un anno, l'anno della liberazione. E allora grazie, grazie a Luca Cari e grazie a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco.